Il problema degli investimenti sicuramente è un problema serio anche perché diventa difficile rispetto alle risorse che ci sono avere degli investimenti, quindi è un problema non tanto che non si possono e c'è il patto, ma è un problema anche di risorse spesso, di averle e poterle investire, quindi questo è un primo problema, però non c'è dubbio che laddove le amministrazioni erano, soprattutto amministrazioni virtuose che potevano spendere, vedersi bloccate queste fondi, era un grosso problema non poter dare dei servizi magari al territorio. Ormai è diventata obbligatoria la pubblicazione degli atti e quindi noi abbiamo il sito aggiornato quotidianamente da dove pubblichiamo tutti gli atti che vengono prodotti. So, a tutti, se stanno speciale. Alla prossima. So, a tutti. So, a tutti. So, ciao. She.